Fara che top con lo sledge subito così in classificata competitiva mamma mia questa è tanta roba mi piace Questa ti dà lo sprint verrà anche te Si dà subito una carica E otto ci porta sfiga Molto bene Eh non abbiamo Jägerua mai Ok uno è proprio fuori sulle scalette Questo me lo faccio io 3,2,1 Non lo faccio a fare Non muore Ah si è spostato Ah ci abbiamo la camma? Si Ricarico copritemi Chi è? Non so chi sia Ricarico copritemi Guarda quello fuori Si, in vip Vip e H pure Chi va pronto a fare il suo dovere Guarda mi sembra che è fuori No tu sei in vip In acqua in acqua Ah qua 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 qua? E si vola Mamma mia che clutch Il nemmico ha salvato una punta, preparatevi a mi ingazzo La spawnti mi dico e rampellati oh bussano trappola trappola è dentro il diffuser è fuori è sulla porta il diffuser non so come spiegarti bomba non riesco a girare la luna è fuori bagno perché quello doveva piccare avete il diffuser non piccare metti i gu e basta ma io gioco in garden ottimo ottimo è sulla porta qua su ping giallo il tizio sta dronando dentro al site 50 sec non vedo niente dalle cam buono uno si è droppato mi sa sunrise non piccare 30 sec tanto ci sono le gu mi vede col temas lo pingo anch'io stai in bomba no no è sulla porta c'è il fuoco non può ha rotto la cam comunque c'è il fuoco c'è il veleno una voragine si è fatta lì molto bene dai hanno ancora sette droni fanno amaro no ram e non la riesco a pingare una sottetta chebra botola di bagno eh fanno il finca finca così non è no sorry se verserai c'è un drone è entrato ah dietro è aperto occhio là dronano si arrivano da quella sono coperto non sto qui sono coperto c'è un picca fuori piccola in posizione è fuori da te un minuto freddo è bello giocare qui random che non hanno tattiche fuori fuori non c'era una IMP non c'era ci va di lusso veramente che figata non ci si rambella subito dentro c'è uno da lapine che fa una madre ok morto chill ammazzati una bomba qui potevo ucciderlo sparandogli attraverso la porta ma vabbè dai boom attraverso il muro è una pazzata è da che uno è dietro il calcone di acqua e un altro è su scale di là c'è solo quello lì devono vedere che sto dronando magari mi pulsano ricarico la spacco un attimo con il muro eccolo la è uno sta lì e cazzo c'è la jana di là non mi vedo c'è dall'altra parte dove ha curito gli ellen ah uno qua ma che cavolo ma come fa guarda ma non c'è la 5 attura piazzata sotto oh un drone dai dai deve sentire che sto dronando sti qua togli e rimetti il drone dietro l'omba uno dietro l'omba mancano 15 secondi allora io l'ho seguito a sinistra 10 secondi vabbè io non ho parole vittoria per gli attaccati come stai che stessi accucciato ma che cavolo vabbè io l'ho scritto si è di t-bot si è di t-bot che roba mamma mia basta che scappasse sotto quella di otro bomba comunque l'hai distrazione si infatti è un cretino se correva sotto fammi vedere qua non 2 e 6 vabbè diamo il valore agli altri barbonazzi vabbè quale mamma mia fammi vedere i points battle pass vabbè non va è tutto rotto vediamo i points 100 1 2 3 rami 3 ma i points dai un po' più veloce 121 fammi vedere questo kd 3.0 i punti